A Vallo della Lucania appello per le adozioni di otto cuccioli, quattro maschi e quattro femmine, dolci e coccoloni, vaccinati e sverminati. Per informazioni dettagliate ci si può rivolgere i volontari dell'EMPA, fra cui la professoressa Noemi Lenza, che quotidianamente aiutano animali in difficoltà, puntando esclusivamente al loro benessere. I cuccioli, nati da una gravidanza indesiderata, cercano urgentemente casa, trovandosi in una situazione di pericolo a Vallo della Lucania, dove il randagismo, come in altre zone del Cilento, rischia di diventare un problema rilevante, a causa della mancanza di canili che possano accogliere gli animali abbandonati, vittime di coloro che incivilmente e insensibilmente non se ne vogliono prendere cura. I cuccioli sono stati posti in una zona di vallo, Rione Sasso, ma purtroppo non vi possono permanere a lungo. Nei mesi scorsi, inoltre, sono stati segnalati a Vallo della Lucania casi di animali uccisi in via Monsignor Filippo Speranza e di recente, in diversi borghi del Cilento e Vallo di Diano, sono stati ritrovati molti animali uccisi attraverso polpette avvelenate. Il randagismo è infatti una piaga morale e sociale. Gli animali randaggi sono esposti a sofferenze, denutrizione, malattie e violenze. La sterilizzazione di animali liberi sul territorio e l'educazione alla sterilizzazione dei proprietari di cani e gatti è la condizione per arginare un fenomeno acuto di abbandoni di animali quasi mai microcippati. È necessario poi educare i giovani e i meno giovani ad una sviluppata sensibilità nei confronti degli altri esseri viventi e senzienti per riuscire ad affrontare il futuro nel rispetto dell'ambiente che ci ospita e di cui, purtroppo, ci stiamo troppo spesso disinteressando.